Ora sto andando al primo vero giorno di lezione Lezioni di Financial Modeling e Business Negotiation Ieri ho conosciuto un bel po' di classmates Molto bello essere qua Sono tutti internazionali Brasile, Giappone, Corea, Russia Francia e Germania Altri mille posti in giro per il mondo Ed è proprio bello avere tanti compagni di classe Che vengono da posti diversi, da culture diverse Quindi comunque da questa esperienza ricaverò tantissimo E poi soprattutto i brasiliani sono anche simpaticissimi E poi ve li presenterò appena possibile Ora corro che sono un po' anche in ritardo a lezione Mi sono svegliato tardi Ciao